Una giornata di sole, sorrisi, beneficenza e solidarietà sul campo di corso 53esimo Fanteria a Biella, normalmente occupato dalla biellese, alcune squadre speciali sono scese in campo per onorare la memoria di Clemente Ferrero Gubernatis Ventimiglia, ma soprattutto supportare l'Aido, l'Associazione Italiana Donatori di Organi. A calcare l'erba le squadre del Kral di Biella, la Nazionale Italiana Trapiantati, la Nazionale Sacerdoti e le Amise di Bergamo, una simpatica ed estroversa compagine di amiche provenienti dal capoluogo orobico. Alla presenza delle autorità, dal sindaco di Biella Claudio Corradino al suo vice Giacomo Moscarola, a dare il calcio d'inizio all'evento è stato il vescovo Monsignor Roberto Farinella, che si definisce un lupacchiotto giallorosso e che si è detto anche un po' deluso di essersi limitato a un semplice passaggino a centrocampo. Così ha parlato la Nazionale Trapiantati sui propri canali. Torniamo a casa dopo un weekend all'insegna della cultura, della donazione e dello sport. La Nazionale ha avuto l'immenso piacere di partecipare al triangolare tenuto Sia Biella. Ringraziamo tutti gli organizzatori per l'invito e per averci dato la possibilità di espandere il nostro credo della donazione a tutta la città, ma soprattutto ringraziamo Maria Teresa Pera poiché senza di lei tutto questo non ci sarebbe stato. A parlare con toni sinceramente commoventi è stata anche Aido Biella, chiaramente in prima fila nell'organizzazione. Sono veramente poche le giornate che nascono da subito emozionanti, piene di insegnamenti e che fanno riflettere che la vita è un grande dono. Sabato da subito si è capito che sarebbe stato così, che i nostri cari donatori sarebbero stati con noi in campo. Tutto si è svolto con amicizia e sensibilità nell'essere consapevoli che la vita è un dono, doniamo la vita a chi attende un organo per ricominciare a vivere. Grazie a tutti di vero cuore e non dimenticate mai che donare fa bene all'anima.